Ho iniziato fin da subito, da quando ho ricevuto il mandato, a prendere contatti ed incontrare le tante realtà della comunità fanese che si occupano di sociale, dal volontariato al terzo settore, a coloro che gestiscono strutture, a chi si occupa in qualche modo di servizi alla persona. Ne ho incontrati tanti e tanti ancora ne dovrò incontrare. In questi giorni ho anche cercato di, prendendo il testimone da chi mi ha preceduto, dal buon lavoro fatto da chi mi ha preceduto, Marina Barnesi, ho cercato anche di dare senso a quello che è il nuovo nome di questo assessorato, che non è più servizi sociali, come si usava a dire in passato, ma welfare di comunità. Welfare è una parola inglese, che però è entrata ormai nel gergo comune, vuol dire benessere e secondo me, secondo noi, secondo questa giunta, il benessere della persona diventa sempre più importante. Stare bene non è solo una dimensione individuale, ma va vista in una dimensione collettiva, di comunità. Qualche giorno fa un incontro importante, un primo incontro piacevole, credo anche apprezzato, con i referenti di tutti i circoli o gli spazi che si occupano di anziani. Da questo incontro è venuto fuori, innanzitutto, un impegno da parte mia, ma una richiesta anche da parte loro, condivisa, di istituire un tavolo di confronto, di coordinamento e di ascolto, in cui mettere le esigenze, le problematiche di ognuno, appunto, in una dimensione d'insieme, perché così, solo così, è possibile trovare soluzioni compatibili. Su questo intendiamo lavorare e un altro degli impegni che ci siamo presi è cercare di andare a visitare anche altri modelli, magari in regione o anche fuori regione, dove sono, diciamo, un po' più avanti su questo coordinamento per cercare di dare veramente un'immagine unita, un'immagine compatta, di una realtà, appunto, viva, dinamica e che si rivolge agli anziani e cerca di valorizzarli al massimo.